siamo a milano malpensa sono le 20 e 13 piove fa freddo siamo a milano appunto e foggia come vedete appare tra le destinazioni tra le partenze alle 21 c'è il primo volo da milano a foggia ne abbiamo parlato anche con il vicepresidente ma in molti hanno posto la questione degli orari attualmente ci sono dei voli il mercoledì il venerdì e la domenica da foggia partenza le 18 e 25 arriva a milano alle 20 e 10 e poi subito dopo partenza da milano alle 21 e arriva a foggia alle 22 e 30 chiaramente è impossibile prendere subito l'aereo nessuno dei passeggeri prenderà questo aereo di ritorno e quindi la maggior parte di loro prenderà il volo di domenica alle 21 per tornare a foggia le 22 e 30 per in ogni combinazione possibile l'umiwings comunque costringe i passeggeri a rimanere a pernottare per due notti a milano quindi su questa cosa sicuramente ci sono delle criticità che si dovrebbero cercare di risolvere poi ci sarebbe anche il volo del lunedì ma anch'esso il lunedì si parte la mattina presto è il volo di ritorno e comunque hai un'ora di distanza da quello di andata e quindi si è anche in quel caso costretti a prendere il volo di ritorno il mercoledì e pernottare sia il lunedì che il martedì a milano è una questione una delle criticità che abbiamo anche sollevato sull'attacco relativamente agli orari sicuramente per migliorare i servizi soprattutto per gli imprenditori professionisti che ha bisogno di viaggiare e tornare durante la stessa giornata è un qualcosa che si può sicuramente migliorare